Ma noi oggi dobbiamo solo goderci queste accensioni che è un segno che la vita continua e che dobbiamo sempre nel rispetto delle regole, sempre stando attenti, ma dobbiamo pensare anche un po' a noi stessi e quindi a goderci questo Natale. Io spero tantissimo, mi auguro che vi possa piacere queste illuminazioni e soprattutto tutti gli eventi che tutta l'amministrazione che è qua rappresentata da tutti gli assessori, io penso che abbiamo fatto un certo sforzo perché anche quest'anno il centro ma anche tutte le periferie possono godere un attimino di questo spettacolo che è il Natale, che è una cosa molto importante per tutti. Io vi auguro veramente un buon Natale in anticipo, ma comincio a farvelo perché poi non so quanti di voi vedrò, però vi auguro veramente di trascorrere bene questo periodo natalizio, soprattutto con tanta salute. Tanti tanti cari auguri a tutti ancora e benvenuti.